Buche profonde, terra smossa, quelle che erano le colture, grano, avena, gran turco e così via, ridotte a spighe piegate, scivoli utilizzati dai cinghiali le cui orme sono ancora visibili, e poi pietre distotterrate e erbe infestanti cresciute dopo il passaggio degli animali selvatici. Siamo ad Ofena, ma questo è solo un esempio di quello che accade nelle campagne della provincia, da Ofena a Navelli a Castel del Monte fino alla Valle Peligna, i cinghiali non trovano più da mangiare in quota e scendono a valle procurando i danni che state vedendo, e dei danni ne pagano il peso più grande però gli agricoltori, costretti a non avere più il mangime per gli animali, a doverlo ricomprare senza avere la certezza della qualità del prodotto, e a fare i conti con degli indennizi della regione che se arrivano sono troppo esigui rispetto al danno effettivo e comunque arrivano nei tempi dettati dalla burocrazia. È stato devastato più, intorno all'80% del terreno coltivato, qua stiamo parlando di quasi 5 ettari di terreno coltivato ad orzo, e praticamente questo poi è un terreno che è stato concimato e lavorato con passione perché in pratica serve al sostentamento dell'azienda per questo inverno, oggi qua forse non ci raccolgono nemmeno 20 quintali di roba. Il problema è anche sanitario però, gli animali arrivano nel paese, pochi giorni fa sono arrivati davanti alle case popolari e le misure intraprese dagli enti locali sono però poca cosa rispetto al danno. Le risorse disponibili consentono di risarcire solo una parte dei danni, il 30% del 2011, il 40% del 2012. La regione e le province hanno inviato nei giorni scorsi una lettera al Ministero dell'Ambiente spiegando quanto grande sia questo problema. Per la sanità, per il lavoro, per l'ambiente, perché il problema sta anche in come sono diffuse le aree protette in regione, i territori tutelati in cui la caccia è vietata raggiunge quasi il 50% del territorio regionale e la localizzazione in queste aree, si legge nella lettera degli enti locali, della quasi totalità dei territori particolarmente evocati alla specie, condiziona fortemente gli interventi messi in campo dalle province, ovvero non bastano l'abbattimento selettivo e gli interventi previsti perché nelle aree protette non sono attuabili, da qui la frustrazione di agricoltori e lavoratori del settore, che si ritrovano danneggiati e non presi in considerazione. Ci troviamo a queste condizioni da anni lamentate, scritte, con manifestazioni e quant'altro, ma abbiamo un governo regionale e i parchi, le zone protette con mania che non vogliono sentir ragione. Noi non stiamo chiedendo niente a nessuno, noi stiamo chiedendo solamente di poter lavorare in santa pace. E allora ricominceremo un'altra volta le nostre battaglie, ma faremo saltare le teste di questi incapaci pagati, pagati da noi tutti, da noi tutti, perché non è possibile che questi cinghiali vengono, distruggono e poi il cittadino comune paga. Grazie. 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 Grazie.